Via rinnovo e riqualificazione tecnologico ambientale del parco autobus di competenza della provincia di Bergamo. Regione Lombardia ha trasferito alla provincia di Bergamo 1.220.550 euro per la prosecuzione nel rinnovo del parco autobus a cui vanno aggiunti 79.742 euro di residui della gestione degli anni precedenti. Risorse che permetteranno di sostituire in tempi brevi 10 autobus obsoleti e inquinanti attualmente in circolazione con anzianità pari o superiore ai 15 anni con altrettanti mezzi di nuova generazione climatizzati ed ecocompatibili. Attraverso un contributo della regione Lombardia la provincia di Bergamo mette a disposizione 1.300.000 euro per l'acquisto di 10 nuovi pullman che verranno acquistati dalle aziende di trasporto pubblico che svolgono il servizio extraurbano. Chiaramente il contributo corrisponde all'incirca al 50% del costo del pullman, l'altro 50% verrà messo dalle aziende interessate. C'è da dire inoltre che con questi meccanismi Regione Lombardia e provincia di Bergamo hanno fatto in modo negli ultimi 10 anni di rinnovare il parco autobus facendo acquistare circa 200 nuovi pullman. I contributi verranno assegnati sulla base delle percorrenze chilometriche espletate sul territorio provinciale, dell'anzianità media del parco, della tipologia di autobus da acquisire e dalla capacità finanziaria di ciascuna azienda. Il contributo provinciale infatti coprirà il 50% delle spese sostenute da ciascuna azienda.